Il film è un po' come leggere un libro, arricchisce, lascia sempre qualcosa dentro di noi, dopo quel film e di qualsiasi genere esso sia, tu ti porterai via qualcosa, una frase in più, un'emozione in più, che poi potrai trasmettere nel tuo ambiente. Quando hai l'opportunità di andare al cinema, non perdere l'occasione, non stare lì a titubare, vai al cinema, se poi vai al cinema giusto, magari puoi trovarci anche me, il che non è poco, anzi è molto. La sala sta per riempirsi, anonimi spettatori sederanno ognuno sulla sua poltrona, qualcuno si divertirà a spipolare sul proprio cellulare. Sono passati i tempi, i miei tempi, in cui toccavamo la mano alla propria futura fidanzata e lei timidamente la ritraeva. Sto parlando generale perché a me non è mai successo, anzi, la mano mi è stata stretta, dopodiché ci scappava sempre il bacio. Venite al cinema, cari amici, vivete la magia del cinematografo, nuove emozioni, arricchiranno i vostri cuori. Sono un po' fissato con i film, quando non ho l'opportunità di vederli al cinema, me li sparo in televisione oppure in video, non so perché. Il cinema ha suscitato su di me sempre grandi emozioni. Mi iniziò mio padre che avrò avuto tre o quattro anni di età. Da allora non ho più smesso. Con mio padre ce ne vedevamo anche due, nelle domeniche pomeriggio, mi ricordo. Dunque, questo è un saluto speciale per tutte le persone che amano il cinema. Magari anche farlo. Ti aspetto, vieni al cinema, toccherò la tua mano e poi mi sarò pulito le mie. Grazie. 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 Grazie.